ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di little nightmares 2 allora controllato il dlc c'è e già l'ho installato comunque quindi se poi quel collezionabile lo troveremo allora grazie a tutti 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 sa cavolo e sta tosse ora non lo so. comunque devo praticamente seguirlo. ok qui che debbo fare qua sopra vediamo. ok devo aprire la valigia. saltare qua sopra. no non proprio qua sopra. mi sa devo buttare a terra con la cassa. sentite che questa parte è un bel casino. allora lui salta quindi andiamo. ok ok qui che devo fare? anche deve esserci una leva da qualche parte. e che cavolo controllo si è scaricato. ma un poteva durare altri due minuti. non è giornata oggi veramente. ok non vedo nulla. allora come devo fare tornare a lui dietro. ok ok non vedo nulla. ok 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 dopodiché dopo la leva devo salire e seguirlo. perfetto. 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 allora penso che debba salire qua perché vedo sto pezzo di qua. inoloco cadarico. perfetto. 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 questo è comunque un altro collezionabile ma non c'è più nulla di quello che va ah pensavo c'era un passaggio comunque il cappellino ha di più sbaglio forse si sbloccheranno immagino più avanti gli altri allora torniamo indietro devo farmi tutta se non chiedi qua si può riscendere facciamo passaggio immagino di sì ok sì sono tornato dove era prima e adesso dove devo andare ok ti apripo la porta ok allora dobbiamo penso scendere esattamente perché la chiave l'ho trovata allora il prossimo collezionabile si trova qui vedo questa porta deve aiutarmi chiaramente lui ok il prossimo questa cavolo di tosse e più avanti allora qua mi sa che dobbiamo spingere in questa cassa esattamente grazie a tutti grazie a tutti c'è mi ha preso dalla cassa stessa mi ha preso ma veramente ma come cazzo fa a prendermi da là no ma veramente c'è qualcosa che non quadra c'è su console su piccino questo problema non l'avevo ma come cazzo fa a prendermi da là ma come cazzo fa a prendermi da là ma come cazzo fa a prendermi da là ma vaffanculo ma vaffanculo non mi fa muovere quello però cioè non posso muovere quello ma come cazzo fa a prendermi da là 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 ma è impossibile questa cosa è assurda è assurda sta cosa ma come cazzo fa a prendermi da là ma come cazzo faccio porca butta mentre mi metta a bestemmi a amare ah si è salvato da un altro punto ma come cazzo fa a prendermi da là ma come cazzo fa a prendermi da la non mi da tregua non mi da tregua troppo veloce non mi da tregua 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 Grazie a tutti. Ok. Ok, è collezionabile dopo il ponte, però controllo. Vediamo. Ok. Perfetto, allora vedo qua come fa, si fa. Ok. 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 Qua è come se in qualche modo debba prendermi lui. E non fa un cazzo però, che rimbambita veramente. Rimbambita veramente. Qua sono obbligato a saltare in quel modo, non c'è altra scelta. E infatti, un attimo. Ok. 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 Qua c'è l'altro collezionabile adesso. Penso che comunque dovremmo essere, dovrei essere quasi alla fine di questo capitolo 1 finalmente. Ok. Il prossimo. E ci dovrebbe essere poi un'altra specie di fattoria. O no. Sento di nuovo quello. Dov'è? Vado a farlo? Ok. Ok. Ti giuro questo secondo personaggio è un coglione Veramente Ok Cioè ma è una mila bionica porca butana Ah Miglia non è possibile Miglia non è possibile Niente non mi concentro più ormai veramente Non mi concentro più Come cazzo lo evito qua Come cazzo lo evito Come cazzo lo evito Come cazzo lo evito Come cazzo lo evito Grazie. Grazie. E' un figlio di buttane. Figlio di buttane. Grazie. Grazie. No, che collezionabile è qua. Aspettate un attimo. Vediamo dov'è. Sì, ma dove l'ha preso sto collezionabile? Non lo comprendo questa cosa. Aspettate un attimo. Allora. Forse non è un collezionabile, ma un trofeo. Sì, è questo di qua. Perché fa mostrare principalmente questo di qua. Anche se il trofeo non me l'ha dato, però. Anche se sia sempre un trofeo. Ok, sì, il trofeo è dopo, allora. Aspettate un attimo. Allora. Allora. Un attimo. Un attimo. Non comprendo perché non me l'ha dato il trofeo. Non comprendo perché non mi abbia dato il trofeo. Non mi è arrivata la notifica, mi sa. Aspettate un attimo. in teoria qua cosa c'è però far prey far prey un altro mi sa prey prey dovrebbe essere il problema è che non so c'è un modo per capire che cavo di trofeo è vale 15 g come cavolo ho fatto a vedere quello di prima che sto facendo un casino no ma valeva 15 g quindi non è questo è chiaro che non è questo non si è sloccato ma non comprendo il perché ho fatto tutto regolarmente tornando indietro un attimo non lo so me ne frego di sticcava i trofei perché l'interessamente comunque principale è quello di fare i collezionabili comunque allora proseguiamo dovrebbe essere quasi alla fine di questo capitolo comunque non manca molto a questo punto lo finiamo questo capitolo e poi chiaramente poi mi fermo comunque è quello di fare i collezionabili e dopo questa parte di qua con la sorta di barca ok quello poi è il secondo capitolo 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 ok ok qui si conclude il capitolo il capitolo 1 va bene per oggi ci fermiamo qui se il video vi è piaciuto vi lasciamo un mi piace noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao